Un vero e proprio l'ubifragio si è abbattuto sulla provincia di Brindisi nella giornata di lunedì 7 settembre colpendo in prevalenza la fascia nord che va da Ostuni a Fasano. Il territorio più colpito risultato quello della città della selva. Strade allagate, automobilisti bloccati, muretti crollati. Così si presentava pezze di greco di Fasano durante e dopo la bomba d'acqua, come vedete dalle immagini. Numerose le richieste di aiuto arrivate proprio da pezze di greco e dalla marina di Torre Canne dove si sono registrati numerosi allagamenti di abitazioni e non solo. Critica anche la situazione sulla statale 379 all'altezza di Torre Spaccata. Disagi provocati a causa di un muro di cinta crollato lungo la statale 172 investita da un getto di fango. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, gli operatori dell'ANAS e la polizia stradale che hanno dopo ore di lavoro ristabilito la viabilità. Colta di sorpresa dalla bomba d'acqua anche la marina di Ostuni, Trappilone e Costa Merlata dove si sono registrati danni minori, solo fortunatamente un fuggi-fuggi dalle spiagge da parte degli ultimi indomabili bagnanti.